Del corso mi è piaciuta soprattutto la semplicità della tecnica e soprattutto mi è piaciuta anche l'esposizione della relatrice. Lo consiglierei proprio per questo, per la semplicità e soprattutto diciamo per il focus del seminario che era incominciare a prendersi la responsabilità perché è finito il tempo di dare sempre la colpa agli altri e ho capito profondamente sempre di più che se c'è qualcosa che non va nella mia vita l'unica responsabilità ce l'ho io e non le persone che sono accanto a me anche se a volte può sembrare così. Mi porto a casa l'aver lavorato interiormente su un tema a me molto caro come quello della relazione su cui è una vita che ci lavoro e penso di aver appreso ancora di più, sempre di più perché si va. L'ho lasciato andare il giudizio verso me stesso perché so che profondamente sono perfetto come tutte le altre persone intorno e che spesso i condizionamenti in cui siamo vissuti i condizionamenti che ci hanno trasmesso la società in cui viviamo errore crea sempre errore e spesso ci troviamo ad avere dei problemi che non sono nemmeno nostri e quindi lasciare andare il giudizio di noi stessi, permetterci di sbagliare per poter capire. Sì, io dico un grazie a Patrizia e mi è piaciuta la sua spontaneità e soprattutto si è messa in gioco, è stata simpatica, non ha avuto paura di far vedere anche i lavori che ha fatto lei nella sua vita quindi è stato un passaggio, è stata un'amica che con umiltà ti porta da A a B e sono sicuro che tutti i suoi allievi possono avere dei grandi vantaggi a seguirla e la consiglierò anch'io.